del 2019 in prefettura e sono collegate le stazioni dei calabinieri al nostro sistema interconnessione, un accordo sottoscritto come unione ma sono tutte qui le telecamere? no, 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 è dimostrativa a rotazione fanno ci vogliamo, ce ne sono 200 quindi tutte quelle dell'unione tutti abbiamo tutti i commenti di sinistra sono sul telefono